Ben ritrovati con le news di Trentino Sviluppo. Casa Italia, la villetta di 315 metri quadrati, scelta come biglietto da visita del padiglione italiano Floriade 2012 che si terrà in Olanda ad aprile sarà il primo edificio certificato Arca. Un organismo leader nella certificazione avrà il compito di verificare che la casa in legno costruita da il prefabbricati azienda di Pieve di Bono rispetti tutti i requisiti acustici di resistenza al fuoco e al sisma di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica previsti dal nuovo regolamento di certificazione. Arca è il primo marchio italiano ideato in modo specifico per l'edilizia in legno, è promosso da Trentino Sviluppo che lo gestisce in collaborazione con Abitec, il distretto Energia e Ambiente. La provincia di Trento in collaborazione con Trentino Sviluppo, Trentino Sprint e la rete Enterprise Europe Network ha organizzato per il 26 e 27 marzo prossimi una missione a Tel Aviv in Israele. L'obiettivo è quello di offrire alle aziende trentine operanti nel campo ICT delle biotecnologie e dell'energia rinnovabile occasione di partnership commerciali, industriali e tecnologiche nel mercato israeliano attraverso uno specifico programma di incontri business to business. L'8 marzo scorso a Bruxelles Trentino Sviluppo ha presentato Cal2Ways, il progetto ha lo scopo di dimostrare l'utilità delle tecnologie mobili nell'ambito del turismo e della promozione del patrimonio culturale di connettere il settore dell'ICT con quello del turismo per sviluppare nuove sinergie. Trentino Sviluppo è coordinatore europeo di Cal2Ways, iniziativa che coinvolge Art Repartner di Francia, Germania e Spagna.